Ho visto che tutti quanti scappavano, ho sentito sparare, appunto due o tre colpi, e poi ho visto fuggi-fuggi tutti che scappavano, tutti che se nascondevano. Paura ieri sera a Jesolo, quando alle 23.30 la violenta lite sembra per questioni legate allo spaccio tra due connazionali di nazionalità tunisine sfociata con il ferimento di uno dei due. Dopo che l'altro, estratta la pistola, gli ha sperato contro tre colpi d'arma da fuoco incurante della gente attorno e vicina, provocando il panico con il fuggi-fuggi generale e l'arrivo immediato delle forze dell'ordine, come testimonia questo video diventato virale in rete. L'insugamento con la sparatoria culminata qui in via Verdi è terminata con la fuga del ferito che ha cercato riparo all'interno del locale alle mie spalle. Tanta la paura, ci dicono oggi gli impiegati. Qui al civico 126 ancora visibili le tracce dove la polizia è rinvenuto due dei tre proiettili sparati, con il terzo conficcatosi alla schiena del quarantenne ferito, che trasportato a Mestre si trova ancora ricoverato e piantonato dalla polizia all'ospedale dell'Angelo, dove è stato operato d'urgenza. L'aggressore invece è riuscito a fuggire. La polizia lo sta cercando, ma la sua fuga potrebbe avere le ore contate. Gli agenti per intracciarlo, oltre alla testimonianza del ferito, stanno analizzando pure i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza della zona, raccogliendo al contempo anche i racconti di turisti e residenti presenti al fatto. E' qualcuno che gridava, perché appunto era anche di là dall'altro terrazzo e sparivano tutti. Furiosi commercianti per questo gravissimo episodio di violenza a Jesolo in piena stagione turistica, dicono. Una località come Jesolo che vive di turismo e quindi di immagine positiva non può assolutamente permettersi queste situazioni. Tra le soluzioni prende nuovamente corpo la proposta del presidio fisso di militari armati. Abbiamo richiesto più volte l'invio anche di militari, che non c'è niente di strano e di particolare, perché tutte le grandi città europee e anche qua vicino basta andare a Venezia, la cosa succede, c'è e non dà nessun fastidio né al turista né al cittadino.